ragazzi buongiorno buon aspettate che levo l'audio buongiorno benvenuti buon dovrebbe essere venerdì oggi giovedì che il giorno è oggi è venerdì allora buongiorno vogliamo farvi ascoltare lo style che daremo domani per i gold che si tratta del tick beat proveniente da bk 9 e lo abbiamo lavorato su sd 9 naturalmente anche su audio eccetera eccetera lo stiamo rifinendo però adesso vi facciamo ascoltare la versione di sd 9 perché ogni tastiera cambia insomma qualcosina poi per il banco suoni voi per altre cose insomma gli effetti soprattutto andiamo ad ascoltare questo style vi faccio ascoltare quanto sono belli le intro gli ending sia nella maggiore che nel minore e vi faccio sentire tutta la varia le variazioni insomma le varia la varia allora buon ascolto in siamo col maggiore e buon ascolto variazione al b Grazie a tutti Adesso andiamo in D Andiamo in Ending E questo era in Maggiore Adesso facciamolo in Minore E ascoltate come l'intro si adatta Perché questo è un generico Tra virgolette Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Andiamo a fare Il landing in Minore Questa era intro 3 e ending 3 in Maggiore e in Minore Andiamo ad ascoltare senza che vi risuono qualcosa da inventato E andiamo a sentire in Maggiore invece la intro 2 e l'ending 2 E poi sentiamo anche in Minore Andiamo in Ending 2 Maggiore sempre Naturalmente ci sono le live drum By noi Andiamo a sentire in Minore Andiamo a sentire in Minore e questo sarà disponibile domani per i gold un abbraccio e un saluto da Nico ciao belli, buona giornata